Il male non è vinto, occorre un impegno più grande, occorre insieme ricostruire una storia di speranza. Oggi appuntamento con le Arance della Salute, dovrebbe essere il primo pensiero della giornata per tutti. La partita si giocca su più fronti, a Piacenza, in provincia, continuerà anche domani. Contro il cancro io ci sono. Con le Arance della Salute si festeggia il cinquantesimo di Arci, 50 anni di coraggio. Proprio quest'anno la nostra associazione compie 50 anni e quindi siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto in tutti questi anni. In questa puntata finalmente tanti giovani, dove andate? Andiamo a fare door to door, a portare in giro le Arance della Salute. Le Arance fanno benissimo alla salute e associate a una sana alimentazione e allo sport è l'ideale per prevenire le malattie e i tumori. Voi appartenete? Noi siamo della società Rugby Lions e siamo sostenuti anche dei ragazzi del Piacenza Rugby. Anche il mondo della scuola partecipa con Cancro, io ti boccio. Anche insegnanti diventano volontari per un giorno. Esatto, siamo già da un paio d'anni che facciamo questa attività di volontariato una volta all'anno e siamo sia qui in postazione in Piazza Cavalli e anche sul Faxal. O se no in giro per il centro con le borse a fare un po' di volantinaggio e di pubblicità. I piacentini rispondono? Sì, però adesso finora neanche tanto perché comunque è ancora presto, però sì, di solito abbiamo sempre avuto ottimi risultati. Su tumori, sui benefici di una corretta alimentazione, sulle Arance, su corretti stili di vita, si sa ormai tutto. È ora di aumentare lo sforzo di mettersi a lavorare insieme. Grazie a tutti.